Per il governo francese è un nuovo colpo sotto la cintola. Quasi non bastassero le cifre deludenti dai uffici di collocamento, 42.000 senza lavoro in più a ottobre, a certificare la debolezza della ripresa transalpina, ci pensa l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel terzo trimestre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10,6%, dato peggiore da 18 anni a questa parte, e non distante da quello di Eurostat relativo a due mesi fa, il 10,8%, con gli esperti che notano come la Francia superi ormai la media dell'eurozona. Una doccia fredda per il presidente François Hollande, che arriva tra l'altro a pochi giorni dal primo turno delle elezioni regionali. Tra le categorie più colpite ci sono gli under 25, tra i quali la disoccupazione è salita al 24,6%. Unica nota positiva è la sensibile diminuzione degli inattivi, cioè quelle persone che non vengono contate perché, ad esempio, non stanno cercando lavoro attivamente. Questo, dicono gli analisti, denota quantomeno una ripartenza dell'attività economica.